è bene che sappiate che la storia ha dei contenuti che potrebbero infastidire i lettori con una certa sensibilità se siete di stomaco debole allora non vi consiglio di proseguire e se le tematiche forti non fanno per voi allora chiudete tutto e non lasciate che la dottoressa eva grimbell vi faccia di sua proprietà experiment 6735 di hukis capitolo 4 8326 urlò dave cercando di afferrarla per un polso ma lux si era già messa in cammino con passi svelti lui si sembrò sconvolto da quel gesto avventato e ancora una volta sentiva che sarebbe andata davvero male lux la chiamò indietreggiando con la sedia e causando un rumore assordante ma lux sembrava non voler ascoltare nessuno harry teneva ancora la testa china senza alcuna voglia di toccare il suo piatto colmo di cibo o di interagire con il resto dei presenti il rumore delle sue scarpe da tennis bianche riecheggiò per la stanza intera a contrasto con il silenzio che si era creato il resto dei presenti si erano bloccati a guardare lux con il fiato sospeso nessuno aveva intenzione di rivivere le stesse brutte scene a cui erano stati sottoposti negli ultimi anni ma lei non poteva sapere che ormai harry style era scomparso e che adesso al suo posto vi erano solo ossa e carne prive di alcuno spirito umano quando poi si lasciò cadere sulla sedia di fronte a quel ragazzo cercò di non far troppo rumore nei suoi movimenti improvvisamente sentì di nuovo le dita fredde del ragazzo attorno al suo collo ed istintivamente la mano si precipitò ad esso lasciando che un piccolo sospiro sfiorasse le sue labbra non appena ebbe la certezza che era solo un brutto ricordo l'esperimento 6735 dal canto suo non ci mise molto a fissare la persona che lo aveva spudoratamente disturbato senza alcun permesso o invito a farlo gli occhi privi di espressione si piantarono su quelli della nuova arrivata e in qualche modo sperava di farle capire e doversene andare il prima possibile e che la sua presenza non era affatto gradita dopo tutto questo tempo passato in quel luogo e i ragazzi che aveva tentato di uccidere pensava che finalmente avessero smesso tutti di preoccuparsi anche solo della sua presenza ma lux ignorava tutti i precedenti ci vollero minuti prima che la ragazza decidesse di prendere parola per secondi infinitamente lunghi era rimasta a fissarlo negli occhi e a cercare di rammentare i giorni in cui entrambi frequentavano la stessa scuola e dove lui sembrava tutt'altro che un mostro e ricordò quella volta in cui lei e freia si stavano recando presso la palestra quando accanto a loro passò proprio style insieme al suo gruppetto di amici e le rivolse un sorriso freia aveva speso il resto della giornata a canzonarla chiedendole come mai conoscesse il ragazzo più ambito della scuola e soprattutto perché lui sapeva della sua esistenza lux non riuscì mai più a dimenticarsi quel sorriso non perché avesse provato interesse nei suoi confronti e mai lo avrebbe fatto ma lo ricordava per il modo in cui le aveva sorriso c'era ad ammettere poi che un sorriso così bello lei non lo aveva mai visto prima ma aveva amato il modo in cui i suoi occhi luccicarono mentre sfoggiava il sorriso e come due fossette gli spuntarono sulle guance quando lo aveva fatto il ragazzo che le stava davanti adesso però non sapeva nemmeno cosa significasse soffredere e alla fine prese la parola se l'esperimento 6735 giusto chiese poggiando i gomiti sul tavolo dalla superficie bianca harry non si mosse di un millimetro e non rispose nemmeno alla domanda stava semplicemente osservando i suoi movimenti e il suo modo così tranquillo di parlare non ricordava nemmeno più l'ultima volta in cui qualcuno si era rivolto a lui in quel modo non ti ricordi di me chiese ancora senza ricevere risposta e sospirò facendosi un po' avanti senti henry non so come perché siamo finiti qui tu non dovresti esserci i tuoi genitori credono che tu sia morto lo crede l'is e lo credevo anch'io parlò a bassa voce guardandosi intorno con la gota dell'occhio non poteva permettere di farsi sentire dagli altri ancora intenti a fissarle ad origliare alcune ciocche di capelli le solleticarono una guancia e con una mossa veloce li portò indietro facendo sussultare harry e la guardò con espressione truce possiamo aiutarci a vicenda sei l'unico di cui potrai fidarmi mormorò guardandolo gli occhi le si riempirono di lacrime e ci volle tutte le sue forze per impedire di scoppiare in un pianto liberatorio questa sera proverò a scappare devi venire con me a quell'affermazione però harry si alzò di scatto stringendo le mani in due pugni quasi da farsi male gli occhi rimasero piantati sul viso di lei per qualche istante mentre la mascella si contraeva in maniera esagerata e prima che lux potesse chiedergli di sidersi harry era già andato via dalla sala inseguito da un infermiere che sembrava essere davvero spaventato nel vederlo andare via da solo nonostante le brutte voci che giravano e gli atti malsani che harry aveva commesso un volto familiare e qualcuno di sua conoscenza al proprio fianco l'avrebbero fatta sentire più a sicuro ma anche quel barlume di speranza sembrò svanire la notte non tardò ad arrivare le urla e pianti continuavano a cullare le ore notturne era difficile stabilire l'ora esatta ma sembravano passate eternità da quando lux si era piazzata contro i piedi del letto ad aspettare di non sentire più le voci stizide degli infermieri che intimavano di andare nelle proprie camere aveva potuto notare anche che le camere non venivano chiusa a chiave e questa era un'altra dimostrazione del senso di umanità che quell'istituto aveva non era certa del fatto che qualcuno lì dentro avesse mai provato sul serio a fuggire ricordava ancora la reazione dei pazienti del vedere la dottoressa greenwell come se la presenza della donna li spaventasse a tal punto da stare completamente zitti alla presenza e se avessero potuto smettere di respirare allora lo avrebbero fatto volentieri poco dopo si mise in piedi e strinse le braccia al petto per il freddo che circondava la stanza sapeva che di lì a poco avrebbe rischiato tutto ma almeno doveva provarci senza nemmeno accorgersene si ritrovò nel corridoio dove solo una fiocca luce bianca illuminava il panimento ma non abbastanza da impedirle di appoggiare le mani sulla carta da parati vecchia d'un tratto gli occhi si misero in cerca della porta in metallo ora essa sembrava così lontana e difficile da raggiungere così lontana da riuscire a vederla appena il cuore batteva velocemente contro il petto e il fiato si fece sempre più corto il suo corpo tendeva a muoversi di tutta fretta mentre le mani tremavano lo sguardo guizzava da destra a sinistra poiché la paura di essere scoperta la stava letteralmente sbranando e poi si mise a correre finalmente certa che nessuno l'avrebbe vista e che una possibilità di fuga c'era quando arrivò alla fine dell'intero corridoio sorpassò anche la mensa ritrovandosi davanti a quella che sembrava una hall le luci erano spente ma non era difficile distinguere la scrivenia a semicerchio al centro della stanza i vari quadri appesi alle pareti verde chiaro alcune sedie attaccate alla parete rendevano la stanza un po più accogliente ma priva di colori sgargianti come il resto delle stanze che aveva potuto vedere fece qualche passo avanti e a quel punto un allarme assordante invase l'intera stanza lux sentì la testa scoppiarle e il cuore batterle ad una velocità tale da paralizzarla per un'infinità di tempo indecifrabile la ragazza rimase immobile con gli occhi che scorrevano da una parete all'altra cercando di spingere se stessa verso la porta in vetro che portava a quella che doveva essere l'uscita e così corse verso di essa nonostante le sue gambe volessero cedere cercò di aprire la porta in vano ogni spinta era inutile e il rumore cominciava ad estendersi anche per il resto dell'istituto e di nuovo altre spinte ma la spalla che si scontrava contro la porta non aveva alcun effetto non ci volle molto tempo affinché due braccia possenti la circondassero strattonando la via di lì l'allarme cessò e insieme ad essa cessarono i lamenti di luxia grazie 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 grazie